Valerio Longo, all'ora di Forza Italia, una breve battuta, ma questo centrodestra troverà finalmente la quadra? Sono convinto di sì, anche perché io sono uomo di partito, uomo di partito più in generale di centrodestra e reputo, ritengo il centrodestra un valore, al di sopra delle nostre persone. Quindi per me i nomi, i nomi dei candidati potenziali all'interno del centrodestra sono tutti nomi legittimi, parliamo di professionisti in genere, anche con esperienza politica che oggi è una rarità sostanzialmente, dopo l'esperienza dell'ultimo decennio da parte dei Cinque Stelle, quindi esperienza politica, professionalità, vecchie famiglie di battipaglia, quindi non sono preoccupato da questo punto di vista, chiunque di loro farà sintesi e rappresenterà l'intero centrodestra, per me va assolutamente bene. Sono convinto che a questo punto gli organi sovracomunali, che noi facciamo riferimento a partiti nazionali, troveranno la quadra, la sintesi giusta, affidando la guida del centro del strabattimento in vista delle elezioni sicuramente a una persona degna e con una grande esperienza politica e amministrativa. Una breve battuta invece sull'amministrazione comunale, la sindaca ha affermato che lei è contro le ingerenze che arrivano da fuori, che cosa ha da dire? Sorrido perché per non piangere, nel senso che lei è stata campionessa di ingerenze salernitane, negli ultimi due anni almeno, alla ricerca disperata di un sostegno da parte del governatore De Luca, sappiamo tutti, alle regionali ha fatto votare De Luca, governatore e candidati di De Luca, quindi il centro-sinistra in generale. Alle ultime provinciali si è spesa per il centro-sinistra, quindi, possiamo dire, trovo veramente risibile una dichiarazione del genere. E sono almeno due anni che l'amministrazione francese sbanda sul posizionale del centro-sinistra, tanto è vero che questo fatto politico ha portato all'uscita di Forza Italia un anno fa dall'amministrazione e dalla maggioranza, proprio per questo motivo. Quindi i legittimati a parlare, in primis il sottoscritto, l'ho fatto in cinque anni in Consiglio Comunale, non contro De Luca ma contro il sistema che lui praticamente incarna, un sistema di potere che ha fatto, per esempio, di battipaglia il centro nevralgico del sistema dei rifiuti e battipaglia è a sovranità limitata, ma voglio dire soprattutto grazie all'atteggiamento della sindaca francese negli ultimi due anni, prono al sistema di potere De Luca.